Lei, Robertino, secondo lei, la situazione socio-economica dell'Italia com'è? Male, è un'economista. Male, secondo lei, caro Robertino. Male, che cosa bisognerebbe fare per riuscire a dare i più a puttane. Cosa? Dare i più a puttane. Dare i più a puttane. Male, questo secondo lei è rubato. Male, hai sentito un quiz in Dall'AirTobascio? Si, lo legalizza. Si pagano le tasse. E' una pistola che è uno dei primi contribuenti. E' un po' di più. E' un po' di più.